Arrivano i finanziamenti ma arrivano a fronte di due cose, il fronte di organizzarsi, quindi da soli ormai non si va più da nessuna parte e soprattutto è arrivato in un paio di argomenti molto forte la visione strategica, quindi non arriva il finanziamento se la regione Lombardia, l'Europa o altri aiutano che ci stiamo semplicemente aggrappando al finanziamento ma senza una visione, una strategia di fondo. Quindi anche questo deve essere un messaggio forte che passa, ma quindi fondamentalmente cercate di ragionare più sulla visione strategica della vostra azienda e poi utilizzare il finanziamento o l'aggregazione come strumento in più e uno strumento per arrivare all'obiettivo cui puntate. Non partite dal finanziamento perché come diceva giustamente loro non si arriva da nessuna parte. Per non essere ambientati singolarmente ma per risorgere con il gruppo, facendo sinergia, facendo tutto quello che vi hanno spinto loro a fare. Personalmente anche noi vogliamo dare il nostro contributo in forma assolutamente gratuita. Siccome abbiamo parlato di visione, abbiamo parlato di strategia, sono fondamentali prima di arrivare magari a cercare anche un appoggio dal punto di vista sia burocratico, amministrativo, finanziario per un bando, il 18, che è lunedì se non ero in Rossella, alle 18 a fine Boronasco, nei nostri uffici, tutti i partecipanti o anche i vostri colleghi che stanno fuori sono invitati a un paio d'ore di coaching strategico, proprio per aiutare a capire meglio dove volete arrivare come azienda e confrontandovi anche sia con noi a livello di formazione sia anche con i vostri colleghi perché riteniamo che il valore del gruppo e dei feedback che possono arrivare anche dalle altre persone siano veramente molto molto importanti.